C'è scritto cosa non si fa per un po' di notorietà giornalista ferme infame e abbiamo fatto anche i nomi di questi figli di puttana e ne ripetiamo che lo fanno rimane secondo il 19o infame, primo canale delle note non possiamo manco non ci sono non ci sono che non si non ci sono ma non sai cosa ha visto ma perché ci vuole successivare? è stato tutto sul volo è bloccato il volo è bloccato tutto è bloccato tutto il posto che c'era e tutto il viaggio guarda 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 quanto riguarda guarda guarda dove poi l'espo